Voga 2016. Cosa ti annoia o ti infastidisce profondamente? Beh, più che di noia voglio parlare proprio di fastidio, di una cosa che mi infastidisce fino al profondo dell'anima, ed è l'ipocrisia, che è una cosa, purtroppo, enormemente dilagante, soprattutto negli ultimi anni, nell'ultimo anno in particolar modo, è una cosa che si sta vedendo tantissimo nella politica di tantissimi paesi e nel comportamento di tantissimi personaggi coinvolti nella politica, è una cosa che mi dà VERAMENTE tantissimo fastidio, la aborro perché con l'ipocrisia si fa tanto di quel populismo, si diventa famosi solo gettando fango e discredito sugli altri, una cosa che trovo veramente terrificante, e almeno questo è quello che penso. Ma tu invece cosa mi dici? Che cosa ti annoia o ti infastidisce profondamente? Parliamone nei commenti qua sotto. Io sono Grizzly, questo è Voga 2016, noi come sempre ci vediamo domani. Ciao!